Buona giornata, prima edizione del TV giornale di Telestense, diverse come sempre le notizie. Intanto vi aggiorneremo su quelli che sono i risultati che arrivano da Tokyo delle rappresentanti ferraresi alle Olimpiadi, parleremo in particolare di Marta Bertoncelli e di Jessica Rossi, ci occuperemo di lavoro, dati incoraggianti per quello che riguarda i primi mesi di questo 2021, torna a crescere l'occupazione, ma a proposito di lavori, parliamo anche di lavori in corso, vi daremo dettagli su quelli che sono i prossimi lavori nella città di Ferrara per i giorni a seguire e vi anticiperemo anche dettagli su uno sciopero della sanità che è previsto per il prossimo 30 di luglio. Cominciamo però subito parlando del maltempo, il maltempo che ha colpito pesantemente l'Emilia Romagna nelle ultime ore, in particolare grandinate triplicate in quest'estate 2021, la peggiore del decennio con la caduta di chicchi grandi come palle da tennis. A dirlo è uno studio di Coldiretti che parla di danni che ormai superano i 14 miliardi di euro in un decennio. Vediamo. Triplicano le grandinate in Italia con 11 tempeste di ghiaccio al giorno dall'inizio dell'estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con danni per milioni di euro su coltivazioni e strutture agricole. E quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati SVD in riferimento all'ultima ondata di maltempo che sta colpendo tutte le regioni del nord, con bombardamenti della grandine a macchia di leopardo che non risparmiano nulla dai vigneti alla frutta, dagli ortaggi al mais. La caduta della grandine, sottolinea la Coldiretti, è l'evento più temuto degli agricoltori in questo momento perché si abbatte sulle colture prossime alla raccolta, con danni irreversibili che fanno perdere un intero anno di lavoro. In pochi minuti c'è chi ha visto distruggere dai chicchi di ghiaccio fino al 100% del lavoro di un anno, con drammatiche conseguenze sui bilanci delle aziende agricole. A cambiare è anche la dimensione dei chicchi di grandine che, continua Coldiretti, risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio, anche più grandi di una palla da tennis nei casi di eventi estremi, come quello che si è verificato in Emilia sulla A1. L'arrivo del maltempo, accompagnato dalla grandine, mette a rischio la produzione nazionale di frutta estiva che quest'anno, a causa del clima pazzo, è stata praticamente dimazzata con cali che vanno dal 40% per le pesche e nettarine fino al 50% per le albicocche rispetto ad un'annata normale. Siamo di fronte in Italia, precisa Coldiretti, alle conseguenze dei cambiamenti climatici, con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni improvvise e violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo, con danni che oramai superano, conclude la Coldiretti, 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e le infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. Intanto ci ricolleghiamo a una notizia che riguarda l'agroalimentare, agricoltura che per fortuna rialza la testa e chiude il 2020 con il valore della produzione a 4,5 milioni di euro, pari a un più 8% e con l'occupazione che cresce del 13%. A dirlo è il rapporto 2020 sul sistema agroalimentare dell'Emilia Romagna presentato in Viale Aldomoro. Vediamo. Un 2020 indecisa ripresa per l'agricoltura dell'Emilia Romagna nonostante il Covid-19. Nell'anno che ha visto l'esplosione in tutto il mondo della pandemia, il comparto agricolo regionale si è mosso in controtendenza rispetto al resto dell'economia e in base alle stime dell'assessorato regionale ha registrato numeri positivi rispetto all'annata precedente. A dirlo sono i dati principali che emergono dal rapporto 2020 sul sistema agroalimentare dell'Emilia Romagna, frutto della collaborazione tra Regione e Union Camera regionale presentato in Viale Aldomoro nel corso di un evento in streaming con oltre 500 iscritti collegati. Un 2020 che si chiude con il segno più, più 8% la crescita della PLV complessiva, cioè della produzione loro da vendibile, delle varie filiere produttive, più 13% il numero di occupati in agricoltura che raggiungono le 82.000 unità. Quindi dei dati molto buoni sul 2020. Naturalmente le filiere produttive non sono tutte uguali, alcune sono andate molto bene, se penso alla filiera del Parmigiano Reggiano, quella della Tiero Casearia che ha avuto delle performance davvero molto importanti, molto buone in termini di vendita e anche di riconoscimento del prezzo e altre filiere che invece hanno sofferto, continuano a soffrire molto come la frutticoltura sulla quale investiremo sempre di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni perché è una filiera strategica per il nostro territorio e anche per il futuro e le necessità che ci saranno di approvvigionamento del cibo. Quindi è un rapporto che segnala però un'organizzazione dell'agroalimentare Miano Romagnolo molto forte, ben organizzata, strutturata e capace di esportare moltissimo i nostri prodotti. Abbiamo un export che supera i 6 miliardi di euro quindi è davvero un settore che è riuscito a resistere anche in tempi così difficili come quelli della pandemia ma soprattutto ha messo le condizioni anche per un rilancio futuro. Intanto parlando di lavoro, il 2021 sembra essere l'anno della tanto attesa ripresa e i segnali che arrivano dal mercato del lavoro nel primo semestre restituiscono la fotografia di un paese che vuole reagire. Secondo l'osservatorio sul mercato del lavoro primo semestre 2021 che Infojobs realizza per capire l'andamento del lavoro nella penisola, i dati sono decisamente incoraggianti. Nel primo semestre 2021 sono stati infatti quasi 235 mila le offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma, dati che corrispondono a una crescita del più 34% su tutto il territorio nazionale rispetto al primo semestre del 2020. Crescita generalizzata in tutto il paese e opportunità emergenti per tanti professionisti è questa appunto la sintesi del primo semestre. In cima alla classifica delle regioni con maggior numero di offerte si colloca la Lombardia che raccoglie il 31% del totale italiano. Proseguendo lungo la penisola in questi primi sei mesi seguono l'Emilia Romagna con il 17%, il Veneto al 15%, il Piemonte al 9% e la Toscana al 6%. Intanto parlando invece di sanità la direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e dell'azienda USL di Ferrara comunicano che per la giornata di venerdì 30 luglio è stato proclamato dalla associazione sindacale Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, lo sciopero generale nazionale per il personale del settore della sanità pubblica e privata, cooperative di servizio, di assistenza e di ausiliariato e società e denti locali per la parte sanitaria. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza sanitaria d'urgenza, quali attività chirurgica solo d'urgenza, le prestazioni di terapia intensiva, i servizi di trasporto del 118, le unità coronariche, il pronto soccorso e tutto ciò che è legato alle urgenze, ma anche ordinaria solo rispetto ai pazienti ricoverati. Tutta l'attività programmata, quindi attività specialistica ambulatoriale prenotata tramite il CUP o dai reparti, non è garantita ma è strettamente in correlazione all'adesione dello sciopero. Come prevedono le norme vigenti, saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all'adesione allo sciopero. E quindi parlando di sanità ci ricolleghiamo al bollettino Covid, a Ferrara nella provincia estense rallentano i nuovi contagi al virus, sono 26 i nuovi casi registrati nel bollettino odierno che registra però un leggero aumento dei ricoveri in ospedale, due le persone ricoverate a Sant'Anna, ma la maggior parte dei positivi è a casa, mentre continua la campagna di vaccinazione in tutta la provincia. Vediamo. Si dimezzano nella provincia estense anche se per 24 ore i contagi da Covid-19. Nel bollettino odierno sono registrati 26 nuovi casi, di cui la maggioranza, ovvero 18, presentano dei sintomi, ma ci sono anche 6 nuovi guariti comunicati dal Dipartimento di Sanità Pubblica. Nella giornata di lunedì 26 luglio si sono registrati inoltre anche due nuovi ricoveri in ospedale a Sant'Anna per positività al coronavirus. Si tratta di un argentano e di un residente nel comune di Fiscaglia. Ad oggi però nessun paziente si trova ricoverato in terapia intensiva e ancora non si registrano nuovi decessi per complicanze da SARS-CoV-2. I nuovi 26 casi, con un'età media di poco più di 30 anni, sono stati individuati con 45 tamponi refertati. Anche in Emilia-Romagna calano rispetto agli ultimi giorni i casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati individuati 299 nuovi casi positivi sulla base di 24.652 tamponi. Si contano purtroppo ancora due vittime, un uomo di 85 anni in provincia di Modena e un uomo di 92 anni nel Riminese. Intanto continua la campagna vaccinale a Ferrara e Provincia. Nella giornata di lunedì 26 luglio sono state effettuate 2.682 vaccinazioni, mentre dal 27 dicembre complessivamente sono state 400.745 le dosi somministrate, di cui 171.406 seconde dosi. E adesso cambiamo argomento. Parliamo dell'area verde ex Camiglia Ferrara che sarà dedicata alla memoria delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. A prevederlo è una proposta della Commissione Cittadina per la toponomastica e le pubbliche onoranze che è stata ratificata ieri dalla Giunta Municipale e che sarà poi trasmessa alla Prefettura di Ferrara per le formalità previste. Nell'area verde, compresa tra via d'Arsene e via Rampari di San Paolo, protagonista nei mesi scorsi di un'ampia opera di riqualificazione, sarà apposta una targa e sarà inoltre realizzato un murale sempre in memoria delle vittime della strage. La richiesta di intitolazione è pervenuta all'amministrazione comunale dell'Associazione Familiari Vittime della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 che nel 2018 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna per mantenere viva la memoria di quell'evento con azioni e iniziative rivolte alla cittadinanza. Adesso invece parliamo di eventi, il Festival di Internazionale torna in presenza. Dopo l'edizione in streaming del 2020, l'appuntamento sul giornalismo internazionale quest'anno sarà in città dal 1 al 3 ottobre e si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid-19. Vediamo. Di nuovo in presenza, dopo l'edizione speciale del 2020 quasi interamente online, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, torna in città con appuntamenti dal vivo a Ferrara il Festival di Giornalismo organizzato dal settimanale internazionale e dal comune di Ferrara. Dalla 1 al 3 ottobre 2021 la città estense si trasformerà nuovamente nella più grande redazione del mondo, con i consueti dibattiti e workshop, con le rassegne di documentari e audio documentari, mostre, proiezioni e incontri con i giornalisti, studiosi, scrittori, fotografi e artisti provenienti dai cinque continenti. Anche per questa quindicesima edizione gli incontri saranno gratuiti e su prenotazione. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid-19. Quest'anno il logo di Internazionale a Ferrara, disegnato come sempre da Anna Keen, rappresenta un mondo che regge una torcia per illuminare il cammino e ritrovare la strada dopo una pandemia che ha creato una crisi economica e sociale senza precedenti. L'attualità è sembrata essere risocchiata dalle vicende legate al Covid-19, eppure nel mondo sono successe tante altre cose. Per riannodare il filo con le grandi questioni internazionali e per capire i fatti avvenuti durante l'anno che ha fermato i Paesi, il Festival propone un giro del mondo attraverso incontri e approfondimenti cercando di dare strumenti per capire e affrontare le diverse crisi in corso. Il Festival di giornalismo è organizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF. Gli spazi della manifestazione sono senza barriere architettoniche e sono accessibili a tutti. Parliamo adesso di lavori pubblici. Proseguono gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e della circolazione pedonale programmati dal Comune di Ferrara su diverse strade del territorio. Giovedì 29 luglio, quindi domani, prenderanno il via in particolare i lavori stradali e le opere di segnaletica necessarie alla realizzazione di una serie di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto. Le vie interessate saranno via Otello Putinati con un attraversamento in corrispondenza del numero civico 214A, via Giuseppe Fabri con due attraversamenti di fronte ai numeri 403 e 469, via Monte Oliveto con un attraversamento in corrispondenza del civico 119 a Baura e via dell'Unione con due attraversamenti in corrispondenza del numero 88 località Correggio e del numero 398 a Baura. Nel periodo di esecuzione dei lavori non è prevista la chiusura al traffico delle strade interessate. Adesso invece parliamo dell'evento che ha caratterizzato il mese di luglio, si è chiuso lunedì sera il Ferrara Summer Festival che ha riempito di spettacoli il luglio ferrarese, tra cui quello del comico Andrea Pucci che ha dato inizio anche alla Pink Week a Ferrara. Vediamo. In migliaia sono accorsi in piazza Trento Trieste per passare un lunedì sera di divertimento insieme ad Andrea Pucci, il comico cabarettista, attore, conduttore televisivo accompagnato dalla Zoravsky live band nel nuovo spettacolo Il Meglio Dì. La comicità irresistibile di Pucci ha coinvolto il pubblico in uno show che ha chiuso il Ferrara Summer Festival 2021 il quale ha portato in città tanti nomi della musica e dello spettacolo italiano Pucci ha saputo raccontare in maniera grottesca e divertente tante situazioni che tutti noi viviamo quotidianamente, anche quella più triste del lockdown del 2020 e dei bollettini Covid. alle 18 di tutte le sere passiamo la parola al ministro mondiale della sanità super spaziale non sono mancati anche i riferimenti a Ferrara e alle sue zanzare. E poi c'è un'altra situazione che accomune il ferrarese la Milano di Pucci, la nebbia. Ti risulti nel senso per vedere quanta mi piacezza, ti metti la testa dentro e dici il volante, le c***o. Segui la luce di quello che ha acceso a 300 metri a distanza il faro rosso, se ti dici seguo lui, tanto mi accorto di quando devo uscire, questa strada la faccio tutti i giorni quando ti arrivo a 30 minuti, per mezz'ora. L'ultimo giorno del Ferrara Summer Festival ha coinciso con il via della Pink Week che proporrà musei aperti fino a mezzanotte, visite guidate, serali e all'esposizione in città, pullman a prezzi agevolati per il trasferimento dei lidi e l'illuminazione scenografica di alcuni monumenti, l'evento clou, il concerto dell'orchestra giovanile europea all'alba all'interno della certosa monumentale di Ferrara. E parliamo adesso di Olimpiadi. L'azzurra Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto al termine del primo giorno di eliminatorie 75 piattelli della gara di Fosso Olimpica dei Giochi di Tokyo. Alla pari con lei con il punteggio di 74 su 75 c'è la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli. Meglio di loro ha fatto soltanto la slovacca Zuzana Stefecekova che non avendo commesso errori ha fatto 75 su 75. Al sesto posto, chiedo scusa, con 72 e alla pari con l'australiana Smith e la francese Cormenier c'è la portabandiera dell'Italia Jessica Rossi che se le qualificazioni si fossero chiusi oggi avrebbe potuto spareggiare per entrare in finale. Le eliminatorie della Fossa donne si concluderanno domani, giorno in cui alle 14.30 ora di Tokyo, le 7.30 in Italia, è in programma la finale. Intanto il tredicesimo tempo nella prima discesa, l'ottavo nella seconda, è così Marta Bertoncelli, proprio grazie al crono tenuto nella seconda run, si piazza al decimo posto complessivo che le permette di rientrare tra le migliori 18 che domani si giocheranno l'accesso alla finale del C1 femminile della Kanoa Slalom alle Olimpiadi di Tokyo. In verità, dato che delle 22 atlete al via, soltanto 4 sono state eliminate, sarebbe stato anche il crono di 121,83 fatto registrare nella prima discesa per Corso Netto, ma il 113,91 della seconda run con due penalità ha permesso all'Azzurra di guardare con maggior fiducia al penultimo atto di domani in cui 10 passeranno in finale. Adesso invece parliamo di un altro appuntamento che si sta svolgendo in città, sono una quarantina i giovani del progetto Ferrara la città del cinema che stanno partecipando come giurati all'edizione del Giffoni Film Festival, il più famoso appuntamento al mondo di cinema per ragazzi. L'evento ferrarese è in contemporanea con il Giffoni che si tiene in provincia di Salerno, e si tiene nella sede della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini all'ex MOF di Ferrara. Vediamo! Bentornati qui al Giffoni Film Festival da Ferrara, siamo nel lab dell'ex MOF per il festival che è giunto alla sua 51esima edizione. Quest'anno 45 ragazzi del Centro per Formazione Attoriale della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini sono stati scelti come giurati per il Giffoni. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in questa sesta giornata per la categoria più 13. Ciao, sono Giacomo Callegari e oggi sono al Giffoni e abbiamo visto The City of Wild Beasts, che parla di questo giovane ragazzo Tato che non ha i genitori e lui però vuole realizzare un sogno. Infatti lui insieme a sua nonna e i suoi due amici vuole diventare un rapper. È stata la seconda parte che mi ha colpito molto di più, dove Tato avendo litigato con la sua band scappa lasciandosi tutto quello che ama alle spalle e andando a vivere con l'onno Octavio. Questo film mi sono vista molto perché comunque Tato ha avuto la fortuna di incontrare i suoi nonni, cosa che io non ho avuto. E lo scambio fra generazioni mi sarebbe molto piaciuto anche a me averlo comunque con i miei nonni e avere delle esperienze. Io studio il CPA da ormai due anni e il prossimo sarà il terzo appunto. Uno dei miei sogni è far l'attore oppure anche il regista o il doppiatore, comunque mi interessa molto il mondo del teatro e del cinema. Il cinema per noi ragazzi è una forma di liberazione per trovare nostra identità nel mondo degli adulti. Frequento il CPA da quasi quattro anni perché mi piacerebbe anche fare il terzo anno e per me è stata un'esperienza molto bella e come carriera mi sarebbe piaciuto fare l'attrice e tipo lavorare con famosi attori tipo Richard Deer. La giornata di oggi è terminata, ci vediamo a un prossimo appuntamento qui dal Gifoni Film Festival per Lab di Ferrara. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del TV giornale di Telestense, come sempre vi ricordo Telestense.it e i nostri canali social per questi e ulteriori aggiornamenti, mentre invece per l'edizione serale vi aspettiamo come sempre alle 19.30. Grazie per averci seguito e a tutti l'auguro di un buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito e a tutti.